La sede dell'ASL di Frosinone ha ospitato martedì 10 ottobre la presentazione del progetto Circuito ASL Solidale adotta una pigotta in reparto. All'evento hanno preso parte tra gli altri il direttore del Dipartimento di Salute Mentale, il dottor Filippo Morabito, il responsabile della residenzialità, il dottor Renato Certosino e la delegata territoriale per il Comitato Provinciale Unicef di Frosinone, Angelica Spalbieri. Nei prossimi giorni, nei reparti di neonatologia e pediatria dell'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, nei consultori, nei dipartimenti di salute mentale e patologie da dipendenze e nel reparto di cardiologia dell'ospedale Santissima Trinità di Sora, saranno distribuite le pigotte, le famose bambole di stoffa realizzate nei centri diurni del territorio. Adottare una pigotta vuol dire aiutare i più piccoli che si trovano in difficoltà, vuol dire sostenere l'Unicef e i progetti con cui prova a raggiungere ogni bambino in pericolo ovunque si trovi, somministrando vaccini, alimenti terapeutici, costruendo pozzi, scuole e portando assistenza. Adottare una pigotta vuol dire salvare una vita.